Bella ragazzi, benvenuti al terzo episodio del Foot World Cup Road to Glory Rieccoci qua, nuovo pack opening, cioè faccio solo pack opening e in questo episodio non andrò avanti Perché voglio dire che comunque questa serie è nata per trattare Foot World Cup più che altro E il mio club è un Road to Glory, quindi Road to Vittoria Però non è che ci sono solo partito, non è una serie come Road to Belgium in cui comunque sia non è in live eccetera eccetera Il Foot World Cup Road to Glory è soltanto una serie che tratterà Foot World Cup in tutti i suoi aspetti E comunque sia tratterà più che altro il mio club, tutto quello che non ci concerne il mio club e quindi l'ho fatto io Primo pack, speriamo di trovare qualcuno ovviamente Spacchettiamo a Toh, 50k, qualcosa giù di lì insomma Vediamo un po', saltiamo Insomma, ah volley E meniche, sì l'abbiamo trovato finalmente cazzo Abbiamo trovato e meniche? Bene bene bene, mi servirà perché voglio farci una recensione Quindi, ci sta Per questo qua Insomma, il brutto di questo gioco è che non essendoci il mercato i doppioni non servono un cazzo E sono tutti da scartare Eheh, quello è il brutto alla fine del gioco Eeeh, nulla Secondo pack Saltiamo i zizi Winter Bah, niente di che Conserviamo tutto quanto Poi, cioè scartando non ti dà neanche crediti E' quello brutto anche Terzo pacco Non credo di tagliarlo perché alla fine Non sto parlando a Musa, non sto lasciando buchi vuoti Ehm, vai lo lasciamo Non saltiamo Xabi Alonso Not bad Not bad Not bad at all Lo riscattiamo Poi vabbè E andremo a aprire Vabbè Da tanto Alla fine I pack nel gioco normale Alla fine non servono a una sega Tanto non si trova niente Andiamo al quinto pacchetto mi pare Saltiamo E troviamo Ruiz E Federici Però niente Ancora qua di niente Come sapete tutti ho trovato il buon Il buon Cristiano Ronaldo Nel pacco Allora Voilà Taglie Apriamo 50k Dai 50 Dai 50 70k Non saltiamo questa volta Vediamo cosa troviamo Bresciano Il buon Bresciano Anche Lennon Not bad Classier Mensa Reina Lennon ci può servire Dai Per far rifiutare un po' Shakiri Poi abbiamo trovato anche Bistrov Questo non è male Di doppione Abbiamo trovato solo del bosco Praticamente E nulla ovviamente Scattiamo tutto Voglio arrivare ad avere Milioni di giocatori raga Giuro Nuovo pack Non guardiamo Non guardiamo Non guardiamo Azpiliqueta Mi serviva Azpiliqueta Un buon terzino No no Effettivamente non mi serviva Perché ho già Serna E Serna E Johnson Quindi non mi serviva Un cazzo Spiliqueta Bene Ok Altro pack Proprio apriamo lì Agliosa Lì a casa Che poi Agliosa non vuol dire A casa Però vabbè Se ne frega Saltiamo Nulla Nulla di nulla Tanto Conservo tutto Tanto Non si possono vendere Non si possono scartare Cioè se si scartano Si fa poco Quindi Alla fine È bello È bello avere Milioni di giocatori Bello Sì Vediamo Messi 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 Nani Bello Sì mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Ho trovato anche One Fran Bel pacco Me piazza Me piazza Mi piace aprire pacchetti Su sto gioco Mi piace un bordello Daghe 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 Taghe Godson De scio Finalmente Mi serviva Un terzino Sinistro Mi serviva Mi servono due centrali Adesso Buoni Ecco Altro pacco Abbiamo sprecato 50k Più o meno Saltiamo Benaio De Silvestri E basta E basta Di altra Abba V 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 Non male No 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 Ok Cruze Vabbò Altro pacco Daghe Non vediamo Perché quando non abbiamo visto Abbiamo trovato qualcosa Gomez Infatti Diabì L'ho trovato Pure No però cazzecolo Diabì Il mio giocatore preferito Di foot 14 L'ho trovato Questo lo metto Easy easy Nella mia squadra Perché Cazzo Il mio giocatore preferito Non nella realtà Ma nel gioco Ok dai Gli ultimi Quattro pacchetti Un po' più easy Dai 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 Martins Vidal 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 Eguarin Beh Bel pacco Vidal Is not Bad at all No Isn't bad at all Più o meno Credo si dica così Ok Gli ultimi tre pacchi Dai Aie Aie Milner Milner E nessun altro Arbeloa Vabbè E Jetson Però Ce l'ho già Quindi Dai ultimi due Ultimi due pacchi Ultimi due pacchi Ultimi due pacchi Due 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 pacchi Saltiamo Giulio Cesar E basta E il Johnson Che va 85 di pace E Silva Però non è il David Silva Dei bei tempi Ultimi due pacchi Ultimi due pacchi Ultimo pacco Dai Non vedo Neymar Neymar Da Silva Da Silva Voilà 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 Le Jetson Fe Neymar Da Silva Ok Adesso facciamo Uno showcase Breve breve Per farvi vedere Tutti i miei oggetti Ok Breve showcase Del mio canale Del mio Del mio club Ragazzi Io ho finito Spero che Voi ve la Stiate passando bene E ci sentiamo A un prossimo video Bella Del mio Il mio Del mio Ciao L'ull